Un quadro della tua visione della gara? Sì, un quadro, l'inizio sicuramente è una partita bella da vedere, onore a loro, non lo scopro io, sono neanche in squadra, noi abbiamo fatto di tutto per mettere in difficoltà, ce l'avevamo riusciti fino al 15esimo minuto, poi è stata una partita anche nel terzo e quarto quarto, chiaramente le percentuali a tiro si sono abbassate e sicuramente loro hanno avuto un attimino più lucidità nei momenti finali ad andare molto più vicino con la palla vicino al camisto, li sono stati in brano, vuoi per la loro stanza fisica superiore alla nostra, vuoi anche per una maggiore esperienza, però detto questo sono felicissimo per la prestazione dei miei ragazzi, è stata una manifestazione che ci tornerà utile per il proseguo del campionato, quindi felicissimi di quello che abbiamo fatto e orgogliosi dei miei ragazzi.